Dopo il rinvio dello scorso autunno, finalmente si è alzato il lazipario sull'ottava edizione del premio Semplicemente Donna alla Teatro Mario Spina di Castiglion, Fiorentino. Sul palco, storie intense ed emozionanti di donne che hanno lottato contro la violenza e la disparità di genere, per lanciare così un messaggio di speranza e fiducia per una vera e concreta ripartenza. Il messaggio è solo uno, che bisogna fare cultura, bisogna cambiare radicalmente la concezione del rapporto tra uomo e donna, non viverla più come diversità ma come modo di ricchezza. Il momento clou della manifestazione, come sempre, è stata la cerimonia ufficiale di premiazione. In questa edizione più che mai il messaggio è quello della comunicazione, dell'informazione e soprattutto di lanciare dei messaggi di sostegno per tutte le persone fragili, perché in epoca di pandemia è venuto fuori che, soprattutto nella prima fase del lockdown, tante donne, le mura domestiche, ha rappresentato un trauma, un trauma perché hanno dovuto scegliere tra il rischio del virus e il rischio della violenza. A ricevere il prestigioso riconoscimento l'astronoma ed astrofisica Sandra Savaglio, l'attrice Isabel Russinova, Melita Cavallo, giudice televisivo di Forum e Margherita Cassano, recentemente nominata presidente aggiunto della Corte di Cassazione. Sento dietro di me la storia di coloro che mi hanno preceduto e che hanno segnato in maniera significativa la vita della magistratura. Vedo davanti a me le prospettive di tanti giovani colleghi che, con il loro entusiasmo, con le loro capacità, contribuiranno a rendere sempre migliore e più qualificato un servizio della giustizia che deve essere dedicato al cittadino. Premiate poi anche la missionaria Suor Gabriella Bottani, l'attivista Cadi Coita, la stilista Eleonora Lastrucci, il professor Enrico Cassano ed infine Laura Roveri, vittima di violenza, è stata insegnita del riconoscimento Donna Coraggio. Io considero non tanto un premio a Laura Roveri, ma un premio a chi ha il privilegio di essere una sopravvissuta, di poter raccontare cosa ha vissuto il prima, nel durante e nel dopo.